Il passo avanti nei diritti civili fatto dalla Germania il 30 giugno del 2017 con l'istituzione dei matrimoni omosessuali sia tutto merito di noi italiani. So che può sembrare un'affermazione azzardata, ma se andiamo ad analizzare lo svolgersi degli eventi converrete con me che ci sono delle coincidenze quantomeno sospette. Facciamo un passo indietro. Siamo nel 2015 e l'Italia è ormai il fanalino di coda dell'Europa intera sul tema delle unioni omosessuali. E per fanalino di coda intendo che non c'è nulla, nada, il vuoto più totale. Mentre Spagna festeggia nel primo decennale delle nozze gay, in Italia la mia relazione con la mia compagna per lo Stato ha lo stesso valore di quella tra me e un tostapane. Poi avviene di colpo il colpo di scena. La cattolicissima Irlanda nel mese di maggio capitola di fronte alla richiesta della popolazione di avere matrimoni ugualitari. A questo punto qualcuno deve essersi reso conto che rischiavamo seriamente che arrivasse prima il Vaticano a riconoscimento delle unioni gay che non l'Italia. E così finalmente si è deciso che era arrivato il momento che anche noi altri avessimo la nostra legge. Bene, ma siccome in quanto italiani siamo affezionati alle tradizioni, abbiamo un rapporto privilegiato con l'antichità e l'archeologia, abbiamo pensato di prendere come modello quello tedesco, ovvero il più vecchio ancora disponibile sul mercato, una versione vintage dei diritti civili, visto che risaliva a lontano 2001. In realtà nel 2003 c'era stato un aggiornamento del modello che introduceva la cosiddetta stepchild adoption, ovvero la possibilità per i bambini figli di coppie omosessuali di vedere riconosciuti entrambi i genitori, ma per l'Italia questo era troppo. Non avvezze a masticare la lingua inglese, praticamente nessuno ha capito di cosa si trattasse. L'unica parola comprensibile era adoption, i politici sono rimasti spiazzati dal pensiero di gay adottanti e hanno rivendicato con forza il già citato italico amore per tradizione e antichità. E così, dopo lunghe diatribe, la legge sulle unioni civili, basata sul vecchio modello tedesco del 2001, ha visto finalmente la luce nel maggio del 2016. Nel frattempo i tedeschi vivevano tranquilli in quel di Germania, talmente abituati ormai ad avere i loro diritti civili, inclusivi di stepchild adoption, perché a differenza degli italiani, loro conoscono l'inglese e avevano capito che voleva dire, da non rendersi conto che l'Europa nel frattempo era andata avanti. E chissà per quanto tempo non se ne sarebbero accorti se non fosse quel giorno arrivata l'Italia. Nei media di tutto il mondo è rimbalzata la notizia che anche la giurassica Italia aveva la legge. E cosa vanno a scoprire la sua in Germania? Che la nostra legge, arrivata con un ritardo oltre il limite dell'imbarazzo e frutto di vergognosi compromessi, veniva definita alla tedesca. Riuscite a capire quale shock deve essere stato per il Bundestag. Così sono corsi subito ai ripari. Cos'hanno fatto? Semplice. L'anno seguente hanno introdotto i matrimoni ugualitari, lasciando l'Italia ad adagiarsi sugli allori della legge sulle noni civili, fatta passare per avveniristica, ma nella realtà già superata ormai da tutto il resto d'Europa. Ma noi italiani non disperiamo, sappiamo che è solo questione di tempo. Se in Germania la legge sui matrimoni gay è arrivata nel 2017, basterà attendere che raggiunga il giusto grado di invecchiamento, un po' come il whisky, e finalmente potremmo averla anche noi. Ecco, magari speriamo solo che non si tratti di uno scotch single malt da 25 anni. Grazie. 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 Grazie.